Uno dei due temi della seconda edizione di CLIC è il cambiamento climatico e gli impatti sulla risorsa idrica. Problematiche queste di grande attualità, basti ascoltare le notizie quotidiane per sentir parlare di aumento della temperatura ed impatti sempre più significativi sul ciclo idrogeologico, con l'alterazione del regime delle precipitazioni che si manifesta spesso con fenomeni opposti, ossia l'intensificarsi di precipitazioni sempre più intense e violente, ma anche la riduzione dei giorni di pioggia e quindi con problematiche di desertificazione e ancora il continuo sciogliersi dei ghiacciai e l'aumento del livello del mare. Sono questi tutti i fenomeni che mettono a rischio di estinzione intere specie animali e vegetali e mettono a ripentaglio la sicurezza di intere popolazioni. Queste sono le tematiche che affronteranno i ragazzi della scuola primaria attraverso un percorso costituito da attività a distanza e quindi la risoluzione di enigmi e due laboratori in presenza, durante i quali gli studenti comprenderanno come le proprie azioni impattino a livello globale ma anche come adottando comportamenti sempre più sostenibili possano contribuire al miglioramento della salute del pianeta.